seconda edizione di ora tg ben trovati apriamo con il coronavirus anche questa edizione del nostro telegiornale con i numeri di oggi i numeri diffusi dalla regione siciliana che tra l'altro parlano di 19 guariti e 5 deceduti nel corso delle ultime 24 ore un dato in controtendenza rispetto anche appena una settimana fa quando era inversa la proporzione adesso perlomeno questa proporzione sembra andare per il meglio la curva però degli attuali contagi non si arresta sale leggermente rispetto alla giornata di ieri sebbene però in maniera contenuta rispetto a quanto accaduto nelle altre regioni italiane vediamo 19 guariti 5 deceduti forse oggi è questo il dato che spicca maggiormente nel quotidiano report sul coronavirus in sicilia a cui la regione ormai è abituato da alcune settimane a questa parte dall'inizio dei controlli tamponi effettuati sono stati 28.742 1.304 in più rispetto a ieri di questi risultano positivi 2.232 tamponi più 73 mentre attualmente sono ancora contagiate in sicilia 1.942 persone più 49 rispetto a ieri 152 i guariti 138 complessivamente deceduti si mantiene ancora a basso dunque il numero dei nuovi contagi sebbene la curva prosegua la sua corsa senza invertire la direzione di marcia ed anzi oggi rispetto a ieri si nota un lieve aumento dei contagi degli attuali 1.942 positivi 629 pazienti più 1 sono ricoverati di cui 63 in terapia intensiva meno 2 rispetto a ieri questa invece la divisione degli attuali positivi nelle varie province con catania che è il numero maggiore di contagiati 574 persone poi messina 347 palermo 295 enna 282 tra i dati sanitari del giorno spicca ancora una volta l'ospedale gravina di calta girone dove altre due pazienti guarite dal covid sono state dimesse nel pomeriggio dall'unità operativa complessa di malattie infettive si tratta di una donna di 55 anni residente nell'ennese e di una donna di 77 anni del calatino le due erano state ricoverate a metà a marzo risultate positive al tampone sono state trattate con terapia standard che combina l'utilizzo di azitromicina idrossiclorichina e antivirale nella giornata di ieri erano stati dimessi dal nosocomio calatino i primi due pazienti guariti dal covid preoccupa invece la situazione all'oasi di troina dove si registrano tra i pazienti altri due casi positivi e quattro negativi tra gli ospiti le persone affette da disabilità mentali grave assistite dalla onnolus e nese sono adesso complessivamente 102 87 quelle negative sarà esteso infine anche alle rsa siciliane quindi le case famiglia il vademecomo comportamentale contemplato per le case di riposo si tratta di nuove azioni di contrasto e prevenzione messe in atto dalla regione per contenere ulteriormente ogni forma di contagio previsti controlli e screening periodici sui pazienti o ospiti o sul personale attraverso il tampone o test sierologico in particolare è previsto il tampone naso faringeo periodico in caso di insorgenza di sintomi l'introduzione di un isolamento preventivo per i casi sospetti in attesa di esito del test e i vigili del fuoco di catania piangono la scomparsa di un loro collega istruttore in servizio all'aeroporto di catania vittima del covid il padre era morto qualche settimana fa purtroppo per sempre per l'attacco del virus profondo cordoglio ha destato la scomparsa di un vigile del fuoco in forza al compartimento di catania che al momento si trovava a roma come formatore del corpo nazionale dei vigili del fuoco giuseppe coco è venuto a mancare dopo una lunga lotta contro il covid 19 aveva 50 anni sposato e padre di due figli la scorsa settimana era deceduto anche il padre vincenzo coco anche gli vittima del coronavirus purtroppo sono attimi che nessun vigile del fuoco ma anche cittadino vorrebbe mai che accadessero purtroppo oggi il nostro collega giuseppe coco ci ha lasciati ricordiamo che era uno dei due colleghi che aveva contratto il coronavirus purtroppo un'embolia polmonare lo ha portato via ai propri cari alla moglie ai due figli nei giorni passati anche il padre purtroppo era perito anche per il covid 19 ma vigili del fuoco ci stringiamo tutti vicino alla famiglia rimarrà sempre nei nostri cuori ricordiamo che era uno dei migliori istituttori aeroportuali nel territorio nazionale un collega che si distingueva per valori morali per l'affetto che dimostrava a tutti i colleghi e per la sua disponibilità non ci sono parole per esprimere il nostro dolore che tutto il corpo nazionale soprattutto quello dei vigili del fuoco di catania in questo momento sta vivendo ciao giuseppe rimanai sempre nei nostri cuori e per i cattolici quella di oggi è una giornata importante di fatto si entra nel clou della settimana santa oggi il giovedì santo una settimana santa vissuta in maniera davvero diversa si rimarrà a casa domenica giorno di pasqua si rimarrà a casa anche il giorno di pasquetta solitamente dedicato invece alle gite fuori porta c'è una nuova ordinanza del presidente della regione musulmanici che di fatto ha blindato la regione misure di contenimento ancora più restrittive quest'anno non sarà così o quantomeno così non dovrebbe essere come era prevedibile anche pasqua e pasquetta bisognerà restare a casa il presidente della regione siciliana nello musulmanici dopo gli ultimi ritocchi nella notte ha emesso una nuova ordinanza per far fronte all'emergenza coronavirus il documento inasprisce ancora di più le misure di contenimento del contagio in coincidenza proprio con le imminenti festività il governo siciliano ha innanzitutto disposto lo stop ai transiti dallo stretto di messina dal 10 al 13 aprile saranno consentiti solo quelli dei pendolari sanitari delle forze dell'ordine e di chi fosse in grave urgenza per quanto riguarda la limitazione delle uscite l'ordinanza di musulmanici prevede la possibilità di poter lasciare le proprie abitazioni solo una volta al giorno e solo per gli acquisti essenziali ad eccezione di quelle per i farmaci e sono permessi ad un solo componente del nucleo familiare stop anche alle consegne a domicilio di cibo nei giorni di pasqua e pasquetta per adesso no all'obbligo di mascherine e guanti in Sicilia come si ipotizzava in un primo momento sì invece per i lavoratori degli esercizi commerciali che vendono generi alimentari anche all'aperto i cittadini però dovranno indossare le mascherine o comunque coprirsi naso e bocca con una sciarpa o un foulard dove non è possibile tenere la distanza minima di almeno un metro è inibito l'ingresso nei territori comunali ai venditori ambulanti al dettaglio se provenienti da altri comuni rimangono interdetti alla fruizione i parchi, le aree gioco, le ville, i boschi, i giardini e ogni altro spazio pubblico per quanto di competenza il corpo forestale alle dipendenze della regione assicurerà l'osservanza della disposizione permane il divieto di gite fuori porta, di spostamento nelle seconde case e verso luoghi di villeggiatura l'isola sarà blindata per Pasqua e Pasquetta c'è stato un effetto positivo alle diverse misure adottate sul territorio regionale ha affermato Musumeci ma non basta e serve mantenere alta la guardia con molta probabilità sarà anche così per 25 aprile 1 maggio intanto l'assessorato regionale al turismo e allo spettacolo sta già pensando a misure straordinarie per rilanciare i due comparti settori fortemente danneggiati dall'emergenza sanitaria in atto allo studio provvedimenti per incentivare i turisti passato questo momento a venire in Sicilia e aiuti per albergatori ma anche per teatri e organizzatori di eventi e la regione siciliana ha dichiarato lo stato di crisi del mondo agricolo e tutto quello che ruota attorno all'agricoltura stato di crisi per il settore dell'agricoltura dell'agroalimentare ittico e agrituristico conseguente all'emergenza che il covid-19 ha arrecato e continua ad arrecare al settore primario siciliano lo ha dichiarato il governo Musumeci il provvedimento specifica che la pandemia in corso ha determinato l'azzeramento del canale Oreca hotel, ristorante e catering e delle menze scolastiche universitarie e la chiusura di agriturismi e non turismi mercati storici e rionali nonché di quelli dell'agricoltore e del pescatore l'azzeramento della domanda di cibo da parte dei turisti in Sicilia la difficoltà lungo tutta la filiera alimentare in termini di approvvigionamento di materie prime e di spedizione e consegna dei prodotti quindi il ridotto funzionamento dei servizi di logistica soprattutto internazionali che ha già messo in difficoltà le imprese per il reperimento di materiali di consumo di servizi e prezzi di ricambio dei macchinari situazione ancora più grave per il settore florovivaistico che trattando un prodotto no food ha registrato un azzeramento totale delle commesse del fatturato anche a seguito della chiusura di negozi e mercati nonché della sospensione di cerimonie civili e religiose con la dichiarazione dello stato di crisi la regione siciliana chiede che siano definiti gli strumenti finanziari finalizzati alla ripresa economica che saranno attivati nell'ambito delle disposizioni nazionali oltre che comunitarie l'atto secondo l'assessore all'agricoltura e di Bantiera manifesta chiaramente dinanzi a quale catastrofe di carattere economico ed equazionale si trova la Sicilia e chiede un'immediata accelerazione dei provvedimenti a sostegno dei settori duramente colpiti occorre limitare, dice ancora Bandiera, con tempestività peraltro gli impatti negativi economici, sociali e ambientali del tessuto produttivo siciliano fatto per l'80% da piccole e medie imprese oggi falcidiato dalla chiusura del canale Oreca dagli agroturismi, enoturismi e delle frontiere Via libera del Consiglio dei Ministri all'annullamento dell'ordinanza del sindaco di Messina a Cateno De Luca sulle registrazioni obbligatorie online per chi attraversa lo stretto lo spiegano fonti governative al termine della riunione che hanno sottolineato come a prescindere dal merito dell'ordinanza il provvedimento di De Luca aveva un difetto di competenze in quanto investiva un ambito territoriale, regionale e non circoscritto al comune di Messina ieri il Consiglio di Stato aveva dato l'occhio alla proposta del Viminale di annullare l'ordinanza il sindaco De Luca nel corso del pomeriggio ha inviato una nota dove invita il presidente della regione Musumeci a cogliere la palla al balzo scendo dal piedistallo e faccia un regalo ai siciliani la recepisca per controllare tutti i marchi d'accesso così De Luca ha chiesto al presidente della regione di intervenire recependo a livello regionale il sistema di registrazione online si passa a condizione che dunque, secondo De Luca non sarebbe più utile solo alla preventiva tracciabilità per attraversare lo stretto ma anche per tutti gli altri marchi di accesso in Sicilia 5.000 tamponi sono già giunti nella sede della protezione civile di Santa Catali Battiati nel Catanese e sono destinati ai laboratori catanesi La regione siciliana ha acquistato dalla Cina migliaia di tamponi da distribuire nelle strutture sanitarie delle nuove province siciliane 5.000 quelli assegnati a Catani insieme alla fornitura di tubi vascolari di varie dimensioni e altri dispositivi per intubare i pazienti in deficienza respiratoria li vedete nelle immagini realizzate stamani presso il Dipartimento della Protezione Civile di Santa Catali Battiati che ha una grande area di stoccaggio pronte per essere ridistribuite dal personale del Dipartimento impegnato nelle delicate fasi di catalogazione e conferimento in base alle priorità presidi preziosi che salvano vite di cui la Sicilia aveva un disperato bisogno per carenza di scorte oltretutto una buona dotazione di tamponi contribuisce a pianificare gli interventi emergenziali e a fornire agli esperti indicazioni reali sulla diffusione dell'infezione nell'isola la stessa organizzazione ha preso in carico svariate migliaia di mascherine chirurgiche guanti e flaconi di disinfettante destinate a personale sanitario impegnato in prima linea nella lotta a Covid-19 i mezzi della protezione civile quelli in dotazione agli ospedali da stamani ritirano le ascolte a loro assegnate in giornata verranno consegnate al personale incaricato nella tamponatura dei pazienti in lista d'attesa la macchina organizzativa gira a pieno regime con la protezione civile regionale vincolata nel delicato compito di pianificare gli approvvigionamenti ai presidi sanitari impegnati nel contrasto del virulento virus ai nostri microfoni Antonino Mascoli funzionario del Dipartimento regionale della protezione civile i cartoni che ho in mano sono tanto ricercati tanto attesi richiesti tamponi sono arrivati arrivano dalla Cina la protezione civile li sta distribuendo a tutti gli ospedali soprattutto a Policlinico di Catania come sapete è il centro deputato per questo tipo di interventi di verifiche sui pazienti siamo con Antonino Mascoli che è responsabile qui della protezione civile per la consegna di questi presidi sanitari che sono fondamentali in questo momento molto fondamentali purtroppo lo dovremmo dare molto di più ma quello ci arriva e quello noi diamo la quantità purtroppo piano piano stanno arrivando da tutta l'Italia aerei elicotteri camion eccetera abbiamo la nostra base all'aeroporto Bocca di Falco e da lì distribuiamo in tutta la Sicilia noi come consegnatari delle varie sedi abbiamo questo piacevole incarico perché riusciamo a fornire tutti gli ospedali ognuno per la propria provincia da Trapani a Catania Messina Siracusa Ragusa tutte quante non trascorriamo niente siamo stanchi ma andiamo avanti perché lo facciamo per il nostro carissimo popolo andiamo ancora avanti ci spostiamo a Giarre aprire un reparto covid nell'ospedale di Giarre l'ipotesi sembra essere alquanto remota al baglio dell'Asp c'è stato già uno sopralluogo però vediamo il sopralluogo c'è già stato ma la decisione non è stata ancora presa trasformare l'ospedale di Giarre in un covid hospital non sarà però certo facile come già rilevato in passato dall'azienda sanitaria provinciale di Catania la struttura necessita di interventi di manutenzione non indifferenti problemi legati all'agibilità che difficilmente potranno essere risolti in pochi giorni al momento come riportato dal gazzettino online resta solo un'ipotesi al centro di una serie di valutazioni la direzione dell'Asp ha disposto la verifica tecnica svoltasi nei giorni scorsi per verificare la compatibilità ambientale e sanitaria di alcuni spazi del nosocomio per attivare dieci posti letto da riservare adeggenti asintomatici risultati positivi al coronavirus due esperti dell'Asp hanno visitato i locali di chirurgia cardiologia e dell'ex geriatria così il portavoce del comitato rivolgiamo l'ospedale avevamo saputo nei giorni scorsi della visita della commissione per valutare la fattibilità di un reparto covid ma non intendiamo scrivere alcune opinioni poiché ancora diciamo nulla di concreto ci risulta piuttosto ripetiamo fermamente quello che è il nostro pensiero come comitato cittadino giare rivolgiamo l'ospedale di avere nell'ambito degli ospedali riuniti giare e cereale due ospedali perfettamente funzionanti di cui solo uno che abbia la possibilità di avere un reparto covid e non eventualmente entrambi da qualche giorno intanto nel piazzale esterno del presidio sanitario è entrato in attività il punto prelievi per effettuare i tamponi riservati ai cittadini rientrati in Sicilia da altre regioni e dall'estero resta dunque da stabilire dove allocare il reparto coronavirus attualmente quattro pazienti si trovano ricoverati nell'ospedale di Ecireale che come denuncia il Tribunale per i diritti del malato di cittadinanza attiva rischia di diventare una nuova emergenza sanitaria per il territorio l'avere individuato questo nosocomio scrivono Carmelo Musmeci e Luigi Puccine ci sembra un'operazione sbagliata la struttura cesa è a padiglione unico quindi non facilmente separabile dai reparti che anche se ridimensionati finalmente anche il Tribunale del diritto del malato di Ecireale è uscito da questo letargo non sappiamo se è dovuto all'esposto che abbiamo presentato alla Procura della Repubblica di Catania nei giorni scorsi però è chiaro che materialmente per chi in questi anni è stato molto silente dei disagi che si sono venuti a creare con la chiusura dell'ospedale di Giare finalmente si è destrato a questo torpore quindi attendiamo le novità che l'azienda ospedale ci intende proporre a Catania il Comune chiama raccolta gratuitamente gli artisti catanesi per un video su Facebook ma la SLCCGL cioè il Sindacato dei Lavoratori della Comunicazione della CGL definisce l'iniziativa irrispettosa non avranno sussidio di disoccupazione i teatri rimarranno chiusi chiediamo un video incontro urgente per conoscere soluzioni in prospettiva dicono dalla SLCCGL l'obiettivo per l'amministrazione sarebbe stare accanto alla cittadinanza chiamata restare in casa però in questo momento gli operatori della categoria sono nel vero senso della parola alla fame senza alcuna prospettiva per il domani e dunque abbiamo denunciato più volte la grave situazione dei lavoratori dello spettacolo a Catania chiediamo adesso in videoconferenza un incontro con l'amministrazione comunale sempre a Catania un numero dedicato per l'assistenza psicologica a quanti soffrono è già attivo vediamo un numero dedicato per l'assistenza psicologica gratuita disponibile tutti i giorni dalle 8 alle 20 è lo 095 22 92 444 attivato dalla LIAF lega italiana antifumo grazie al supporto tecnico e alla collaborazione di Netit a causa dell'isolamento necessario per combattere la pandemia in molti possono soffrire di una condizione psicologica fortemente destabilizzata in un momento dunque così difficile per tutti ed emergenziale che coinvolge tutte le fasce sociali si tratta di un sostegno importante reso possibile anche dalla partecipazione volontaria di numerosi esperti che hanno aderito al progetto il servizio in grado di fornire uno supporto concreto e veloce per tutti i cittadini italiani si viviamo un momento drammaticamente emergenziale in cui tantissime persone sono costrette a stare in casa in una situazione di ansia e di paura l'IAF call me vuole rispondere alle esigenze di tantissimi italiani cittadini italiani che in questo momento vivono una situazione psicologica fortemente destabilizzata si tratta di un servizio di assistenza psicologica gratuito attivo da lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 al quale rispondono una rete di psicologi che hanno aderito volontariamente all'iniziativa di l'IAF e che permettono di dare supporto a tutti coloro i quali ne hanno bisogno noi di NETIT abbiamo scelto di aderire all'iniziativa perché riteniamo che oggi più che mai il supporto tecnologico debba essere messo al servizio del sistema paese del settore sanitario noi dal canto nostro abbiamo una grande un grande vantaggio conoscenza nel settore innovazione e nei collegamenti tecnologici ma questo oggi non può rimanere un vantaggio solo nostro ma deve essere messo al supporto della collettività ed è per questo che abbiamo aderito all'iniziativa e adesso vediamo delle immagini che arrivano da Bronte ma potrebbero provenire da qualunque comune italiano perché i carabinieri stanno consegnando ovviamente a chi ne dovesse fare richiesta a domicilio la pensione agli anziani che avevano appunto l'abitudine di ritirare alla posta il mensile in questo momento non si può uscire di casa ci sono file alle poste dunque è stato siglato un accordo tra l'arma dei carabinieri e l'ufficio postale una vera e propria collaborazione per tutto il periodo di emergenza saranno appunto come vedete le immagini i carabinieri in questo caso di Bronte a portare la pensione a casa rimanere dunque serenamente gli anziani potranno rimanere serenamente nel domicilio per eventualmente fruire del servizio che ovviamente abbatte anche truffe rapine scippi all'anni degli anziani gli stessi potranno contattare il numero verde che vedete in sovraimpressione messo a disposizione da poste italiane o chiamare la più vicina stazione dei carabinieri per richiedere maggiori informazioni e i funzionari dell'agenzia Dogane Monopoli di Catania hanno sdoganato rapidamente con la procedura agevolata di svincolo diretto 332.000 guanti monuso in nitrile destinati alle forze dell'ordine facenti parte di una più ampia importazione proveniente dalla Malesi effettuata da un'azienda siciliana contestualmente però in ottemperanza a quanto disposto al commissario straordinario per l'emergenza covid si è provveduta alla requisizione della restante parte per un numero complessivo di 1.292.000 guanti destinati ai magazzini della medesima azienda importatrice i dispositivi di protezione individuale sono stati consegnati alla protezione civile della regione per una rapida consegna agli ospedali e agli enti di pubblica utilità che ne faranno richiesta abbiamo parlato nei giorni scorsi i servizi di trasporto proseguono sebbene anche con corse limitate parliamo dei servizi di trasporto pubblico su gomma abbiamo detto pure della grave crisi che investe in termini di liquidità tutte le aziende tra queste pure l'azienda metropolitana trasporti di Catania che assicura anche in queste ore i servizi durante l'emergenza covid ma i cui dipendenti non avevano ricevuto parte dello stipendio ebbene adesso dalla regione siciliana arrivano 5 milioni di euro all'AMT l'allarme era stato lanciato pochi giorni fa l'azienda metropolitana trasporti di Catania non era in grado di pagare parte delle spettanze per assenza di liquidità anche perché la regione siciliana non aveva ancora erogato la prima tranche dell'anno 2020 ebbene questa mattina il direttore generale del dipartimento infrastrutture della regione ha decretato la liquidazione dei contributi in favore del trasporto pubblico nel comune di Catania si tratta di poco meno di 5 milioni di euro a copertura del primo trimestre 2020 erogazione che arriva rispettando i tempi prestabiliti sottolinea oggi l'assessore alle infrastrutture e ai trasporti Marco Falcone e che diventa ancora più essenziale per la tenuta dell'AMT e dei suoi servizi in questo momento di grave emergenza il decreto emanato stamani dal dipartimento infrastrutture assegna la somma di 4 milioni 917 mila euro al comune di Catania da trasferire dunque all'AMT il governo musumeci ha sottolineato ancora Falcone prosegue nel mantenere l'impegno a non far mancare le risorse di sua competenza a tutti i settori dell'economia e dei servizi in Sicilia a partire dai trasporti che impegnano centinaia di addetti con questo atto non solo garantiamo un servizio essenziale quale il trasporto pubblico ma salvaguardiamo la dignità dei lavoratori con la corresponsione degli stipendi e in Sicilia il lockdown per contenere i contagi dal covid-19 ha bruciato in un mese pensato 2,1 miliardi di euro di valore aggiunto quasi mezzo milione i lavoratori rimasti a casa nella nostra isola mentre i 600 euro del cura Italia hanno coperto appena il 34% dei 1740 euro persi da ogni autonomo è partita IVA e il quadro che emerge per l'isola dallo studio realizzato dallo Svimez dunque tante persone si sono trovate un giorno all'altro senza lavoro dunque senza economie si fa gara nei vari comuni per tamponare l'emergenza e aiutare chi in questo momento si trova in difficoltà ma aiutare anche chi solitamente purtroppo è in difficoltà oggi le esperienze di Acibonacorsi e Via Grande due comuni del Catanese è una gara di solidarietà di contagiosa partecipazione collettiva che accomuna tutti i sindaci nella veloce e urgente disposizione degli atti necessari ad avvenire incontro alla popolazione in difficoltà per il blocco delle attività lavorative che ha fatto emergere vere e proprie sacche di povertà sommersa drammatico termometro della situazione che stiamo vivendo su cui tutti siamo chiamati a gesti di responsabilità e per quanti lo possano di generosità verso il prossimo anziani e intere famiglie costrette alla quarantena va senza un supporto economico capace di fronteggiare la crisi in atto la pianificazione adottata dalle municipalità con misure omogenee sta dando i suoi frutti i 400 milioni di euro dello Stato centrale e i 100 milioni messi in campo dalla regione siciliana assegnate ai sindaci per convertirli in buoni spese da distribuire tra quanti le fanno richiesta in qualche modo le nisce le sofferenze di interi nuclei familiari in molti casi indigenti che attraverso l'appannaggio finanziario possono far fronte alle esigenze primarie non solo italiani ma anche stranieri residenti in grandi e piccoli centri a Via Grande paesino di 8 mila anime ubicato nella cintura urbana della fascia a piede montana etnea il sindaco Francesco Leonardi ha destinato il grosso del personale comunale ai volontari della protezione civile nella gestione della grave crisi epidemica un lavoro di squadra che coinvolge anche i servizi ecologici comunali atti concreti per dare risposte immediate alla collettività via grandese a cominciare dalla sanificazione degli spazi antistanti alle attività commerciali che assicurano ovviamente si possono configurare pericolosi assembramenti di persone principale causa del diffondersi del coronavirus 4 i casi accertati di residenti infetti da covid-19 tutti monitorati per fortuna il quadro clinico è stabile la situazione è un po' sotto controllo a Via Grande abbiamo solamente 4 casi ma sono ben monitorati e al momento stanno bene abbiamo avuto purtroppo solamente una persona che è deceduta ma che non lascia strascichi sul nostro paese abbiamo pensato con l'assessorato anche all'ecologia di effettuare una nuova sanificazione chiaramente in questo momento ci fermeremo sulle zone che sono particolarmente più movimentate quindi mi riferisco davanti ai supermercati o comunque davanti alle attività commerciali che al momento per legge possono stare aperte è un discorso che inizieremo nuovamente questa sera e che andremo avanti poi è chiaro è un momento particolare ma abbiamo voluto dare un segnale anche domenica per la Pasqua vogliamo un po' può rassicurare tutti i nostri concittadini che anche se non hanno la possibilità di potersi regare al cimitero noi come sempre stiamo mantenendo il cimitero in ottime condizioni sarà come sempre pulito stiamo pensando anche a mettere dei fiori e domenica alle 12 e mezza faremo un momento di preghiera chiaramente col parroco non aperto al pubblico ma giusto per dare anche un senso a questa Pasqua che verrà sul fronte delle attività di servizi sociali stanno continuando quindi a pervenire ancora richieste siamo già oltre le 200 domande da oggi andranno in distribuzione buoni nella vicina ci buono accorsi il sindaco Vito Di Mauro che come primo gesto ha personalmente rinunciato alla propria indennità di amministratore pubblico donandola alla collettività per l'acquisto di centinaia di mascherine che sono state consegnate direttamente a casa dal personale della Croce Rossa quanti li hanno fatto richiesta il piccolo comune Teneo 3.500 residenti ha anticipato gli aiuti di Stato e Regione prelevando dal bilancio interno i fondi per venire incontro alle necessità dei cittadini meno ambienti 200 circa le domande di aiuto elementare giunte al palazzo di città il comune di Acibanacorse non ha atteso quelli che sono stati poi i provvedimenti statali e regionali in quanto già proprio nei primi giorni ha fatto sì che con fondi comunali per 7.500 euro ha dato subito sollievo a quelli che erano i bisogni imminenti della comunità distribuendo dei buoni pasto buone spese per 80 nuclei familiari veramente bisognosi adesso abbiamo attivato i fondi statali e credo che tra questa sera e domani verranno tutti quanti distribuiti abbiamo tutti gli assistenti sociali al lavoro il responsabile Nino Borzi che si è proteggato tantissimo per questa situazione la giunta comunale è continuamente in colloquio per poter trovare le migliori soluzioni 150 sono le richieste per venuta al comune mi sembra che le famiglie che finora hanno fatto domanda sono quasi 150 famiglie un numero enorme per quello che so il tessuto sociale per quello che sono gli abitanti che sono 3.500 abitanti quindi però noi stiamo cercando di dare risposta a tutti quanti e soprattutto stiamo cercando di fare le cose in fretta domenica insieme al Parico ci richieremo al cimitero per fare sì che anche i nostri defunti vengano degnamente onorati per questa festività in quanto i cittadini per le note restrizioni di mobilità non possono andare al cimitero i militari del 62esimo reggimento tofanteria Sicilia della brigata Aosta hanno consegnato in vista dell'imminente Pasqua le tradizionali uova di cioccolato agli oltre 70 bambini ricoverati nei pressi di oncologia delle strutture ospedaliere Cannizzaro nuovo garibaldinesi ma policlinico Vittorio Emanuele della città di Catania l'iniziativa è stata promossa attraverso il contributo spontaneo e volontario dei militari dell'esercito della caserma Sommaruga di Catania la proloco di Giarre in collaborazione con un'azienda dolciaria regala uova di Pasqua ai più piccoli La proloco di Giarre sempre più al servizio della comunità dopo le importanti iniziative dei giorni scorsi con la distribuzione di mascherine e servizi essenziali e più bisognosi il presidente Salvo Zappalà in collaborazione con un'azienda dolciaria denunziata di Mascali ha pensato bene di distribuire uova pasquali ai più piccoli attraverso un servizio a domicilio effettuato tramite una prenotazione ad un numero whatsapp un piccolo gesto d'affetto rivolto ai bambini costretti a rimanere in casa per l'emergenza sanitaria in corso non poteva mancare questo appuntamento proprio con la Santa Pasqua e dare questo omaggio dell'uovo di cioccolato e più piccolo ai bambini anche prendere una Pasqua molto più felice e meno di tristezza essendo siamo in un momento difficile d'emergenza con questo coronavirus che sta portando veramente tanta tanta tristezza e come ogni anno la Prologue ha voluto donare a tutti i bambini questo uovo di cioccolato penseremo anche alle famiglie alle case famiglie agli anziani dove consegneremo noi a domicilio direttamente le uova di cioccolato direttamente avremo dei corrieri abbiamo fatto un accordo con le poste private dove consegneranno le uova di cioccolato la Prologue non si fermerà solo a questo abbiamo dato oltre mille mascherine stiamo donando queste ma faremo tante altre attività affinché si possa superare questo momento di emergenza non ci sono novità dalla redazione dunque ci fermiamo termina la seconda edizione di ora tg che avete visto sul canale 89 del digitale terrestre in sicilia dire tv che avete seguito sul nostro sito internet o sui canali social di re facebook e youtube prossimo appuntamento con ora tg domani alle ore 14 grazie per essere stati con noi buon proseguimento di serata a voi tutti e restate a casa sole splendente su tutta la Sicilia nella giornata di venerdì 10 aprile 2020 mari e venti saranno tendenzialmente calmi temperatura tipicamente primaverili su tutta l'isola il picco massimo si registrerà a Siracusa con 22 gradi di massima mentre a Catania la colonnina di Mercurio oscillerà tra 11 di minima e 21 di massima mazzisola con 22 gradi di massima Grazie a tutti.